Le Noce ormai questo campo basso non lo ferma più nessuno in trasferta, probabilmente in casa manca ancora un po' di continuità nel vincerle alcune partite. Domenica c'è l'occasione tra l'altro di vendicare una brutta sconfitta, quella dell'andata. Sì, quella dell'andata fu una brutta sconfitta e comunque l'Avezza non ha una squadra fortissima come anche tutte le altre. Quindi noi cerchiamo di lavorare in settimana per arrivare al meglio questa partita. Quindi noi lavoriamo sia tatticamente che anche mentalmente perché comunque è sempre difficile stare lì e mantenere quella posizione. Personalmente credo che tu sia cresciuto molto in quest'ultimo periodo. Pensi che il campo basso ha ripreso a viaggiare a certi ritmi soprattutto perché la difesa è migliorata in modo esponenziale in questi ultimi 3-4 mesi? Sì, sì, certo. La difesa comunque sta lavorando molto bene in queste ultime partite ma non è solo merito di noi quattro difensori ma bensì di tutta la squadra perché comunque i primi attaccanti, i primi difensori sono i nostri attaccanti. Sì, ho trovato più continuità e quindi una volta che si trova la continuità si cerca sempre di dare, si cresce e quindi si dà sempre il meglio. Ecco oggi anche qui vi hanno seguito, domenica vuoi fare un appello perché si possa riempire di nuovo i Romagnoli perché credo a questo punto voi dovete avere almeno il riconoscimento di questi 23 punti che sono tantissimi che hanno riportato il campo basso a ridosso del Fano. Sì, sì, certo. Ma comunque credo che lo sappiano già, credo che sappiano che noi abbiamo bisogno soprattutto di loro, è un giocatore in più diciamo in campo per cui spero che in casa vengono molti tifosi. Carrieri centrale della Fermana, gara difficile oggi perché ti sgusciavano un po' da tutte le parti, probabilmente non è stata semplice ma comunque una prova importante contro il campo basso. No, una gara sicuramente non bella, hanno sfruttato mezza occasione, non hanno mai tirato in porta, hanno fatto un tiro dall'area piccola, hanno passato in mezzo a due gambe sotto la pancia del portiere ed hai perso una zero. Ti hai avuto tre occasioni quasi nitide per fare gol ma il calcio è questo, figurati, niente da recriminare. Peccato per i tifosi, peccato per la gente, peccato per noi perché volevamo accorciare in classifica e prenderli. Abbiamo tra virgolette perso tre punte, abbiamo perso un treno importante però ci tiriamo sulle maniche come abbiamo sempre fatto e vediamo di andare a Caselfidardo per cercare quantomeno di sopperire a questo sconfitto in casa.